Pubblico delle grandi occasioni al Comunale di Scoppito per il derby tutto Aquilano tra Miternina e L'Aquila. Derby che si apre nel ricordo di Simone Cantusci, ragazzo tragicamente scomparso 11 giorni fa. I giocatori della Miternina hanno voluto ricordarlo così. Mister Monterani conferma l'11 di Sant'Egiglio, ad eccezione di Scimmia che tra i pali prende il posto di Apruzzese. Mister Durastante opta per il 4-3-3. Primo tempo non bello, nervosismo e voglia di non perdere prevalgono sul bel gioco. Al pronte via l'Aquila è subito dalle parti di Annoni. Petronio lungo il corridoio serve Taurino che però non aggancia bene la sfera favorendo il recupero del numero 1 giallorosso. Tredicesimo, errore di Christian Albani. De Gasperis ne approfitta e di piatto destro mette in condizione Laurentini di calciare. Il pallone sorvola di molto la traversa. La Miternina organizza le idee e al ventunesimo si propone con Franchetti. Scimmia in due tempi blocca. Ancora padroni di casa protagonisti al venticinquesimo. Federici colpisce la sfera con le mani. De Luca di Teramo concede la punizione. Batte l'ex di Corcia fuori di poco. L'Aquila riprende a giocare. Trentesimo, cross di De Gasperis. Valente in corsa non c'entra il bersaglio. Ultimo sussulto prima della pausa al quarantatresimo con Brazzioli. Il pallone si perde a fil di palo. Nella ripresa si riparte con gli stessi undici ma la voglia dell'Aquila di portare a tutti i costi tre punti in cassaforte inizia a farsi sentire. All'acquarto Laurentini in tutta calma trova il tempo per aggiustarsi il pallone ma la sua conclusione è telefonata. Ioannoni in due tempi blocca. Sedicesimo ci prova anche De Gasperis e l'enorla traversa. Ventiseiesimo, il rosso-blu passano. Contatto dubbio tra D'Alfonso e De Gasperis. De Luca indica senza esitazione il dischetto. Dagli undici metri batte Laurentini. Portiere dall'altra. Grande l'esultanza dei mille supporters rosso-pati sui gradi comunali. Trentunesimo, piove sul bagnato in casa Miternina. Brutto fallo di Capulli ai danni di Valente che guadagna così la doccia anticipata. Trentasettesimo, si rivedono i locali con l'altro ex di turno Rosone. La sfera esce di poco. Di qui in poi inizia il forcing finale dell'Aquila. Alla disperata ricerca del secondo gol per archiviare definitivamente la partita. Ma prima Laurentini al trentottesimo. Poi De Gasperis al trentanovesimo. Trovano sulla propria strada un provvidenziale Ioannoni. A questo punto l'Aquila può solo tifare Ortona per ritrovare la zona playoff. La Miternina invece deve tifare Colonia Paese per consolidare la propria posizione. Strano a dirsi, ma il calcio è anche questo.